Salute, come vuoi? Salute, va bene, grazie. Sotto un sole che spampi l'edio, partiamo con la squadra dell'Ufficio dell'Ambiente da scoprire l'isola Capigorsini. So è il che gestisce nuove brudegge nella riserva naturale, prima resta, fino a Tiarulla, una di altre isole del stesso nome, e Brime, adesso è basato in riserva nel 1987. Sono passati già a mezzo di Vibra, e di arrivare a questo permette la pena quelli che sono andati, quelli che sono andati, quelli che sono andati, e di avere un po' un denito. C'è tre periodi come operazione. Saltasolo, che annontalizzato l'ennimo buona fuori diverse persone autorizzate. Basta un uomo da che gli scappino tutti i laggili. Dio erano, e so pareti mesi che i Marangoni hanno vato iso nidi. On va allare voir un altro nid, dove i giovani sono più piccoli. Questi ghi sono appena nadi. Allora, come vedeviste ghi? Ci sono due due nidi qui sono andati, perché è scambia della fa. Tutti i Marangoni, la fa che hanno butto che aveva di d'est e sud-est, allora ci sono andati, così, sono andati. Ci sono andati, perché ci sono andati che non ci sono andati. Ci sono andati, quando si vedono tutte le nid che non c'è un punto di scappa, ci sono andati. Ci sono andati, ci sono andati, ci sono andati, ci sono andati. Mi amico, il luogo, il parente, se non è vanuiti, assistendo qualche minuto dell'acqua, dopo quando vertimo, perciò che ci sono andati a fare questo lavoro, in furia, in furia. e la mamma, un bel amico, che è andato là, a fare una protezione di un'acqua, per un'amore e di gozzi di gorghe, un amore. Ribigliando il mare e a giraglia, lasciamo abbassare qualche delfino. Piccola bausa, non sauridorno, ha realtà. Sono conservatore della regione naturale. La prima foto, c'è cosa? C'è il primo che fa le foto. Eh sì, ma è sulla regione naturale. Non è passato a fare delle foto due a giorni, comprena? Non, ma non è ancora. Non ancora, ma non si può prendere. Ella aveva l'autorizzazione di San Antaliso, la Dago Ntrula Idrawa, l'Ananta Uvanale. Ma anche qui si è premo rispetto alla gente, che l'Asia rispettata a Natura, anzi tutto. Quali sono gli esperti e gli emblemati che le Geremo di Arriserva? E quali sono gli esperti che le rispettate? Chi sono i mergoni, i maragoni. Li bani come abbiamo bolloni di Amali. Chi sono anche gli gabiani e due espie di Gabiani, il l'euxo e l'eau di Dien. Chi sono anche l'agile che non diamo, i bifani di Scopoli. Mi scuone, sei ora, mi ha paolo ancora su. Il mio nemica. E poi c'è l'Alpana, che face è inì di 90 Juno a oggi, che passano qui per Cacidià e per Arribuzassi, certe urti. Fuori di l'agile, aspettate di noi ad altre spedie, vi preparate con il riscaldamento climatico ad altre spedie. Ah, capisco, di cosa parliamo. Ci prepariamo, siamo un traccio idroianato, un piano di gestione della riserva, e ci prepariamo ai scambi climatici, diremo. Questi scambi ci sono spedie, o nuelle, o canarrivene, che ne aspettiamo. Certi lo chiamano un betio marino, o un ideo di mare, che non si è più visto in Cabigosto, tipo i barettiani, ma si vede in Italia e forse un giorno può rascalare di noi. Anonta a Giraglia, piccola verificazione. C'è l'unica isola in Corsica, dove ci sono i dobi, quindi per controllare abbiamo messo questo dispositivo in piazza, una quindicina di cose così. E qui si vede che non è mica mandiato, quindi i dobi non sono capace di cuire. Ultima isola di riserva, Capense, bigino a Cianturi. Qui di noi, un tipo a bigina, a meno di 10 metri, è poco. Se on revient, come voi avete le canne, il canne là, là c'è un gros problema, c'è un gros problema, c'è un gros problema, c'è un gros problema, e voi avete una procedura, là c'è certaine. D'accordo? Ok? Al di là di controllo e abruzzazione, è incaricata la squadra di barretti programmi scientifichi. I programmi hanno una maniera di gestire i stiloghi brudetti, di la stessa maniera che in Cavi Gorsi o in Bonivasio, e di voi fare i barragoni tra i risultati che abbiamo qui o che abbiamo qui, e di voi seguire le popolazioni d'ageli che si spiezano e di sapere appena come si portano. Azione, che li vaggiano a livello lugale, ma che ribombano uno mediterraneo. L'ageli bonuja di Assina ad altre isole, come quelle di Duskana, che egli non conoscono frontiere.